Duplice delitto a Fano, indagato il figlio di 49 anni per omicidio volontario aggravato, ora si trova in cancere a Villa Pastigi, a Pesaro. Più sicurezza al Parco Miralfiore, tra spaccio, morte e paura servono nuovi interventi mirati, si farà gioco di squadra. Il generale Vannaccia ai nostri microfoni parla della vittoria alle elezioni per il Parlamento europeo. Il reparto di radiologia e diagnostica all'avanguardia al Malzoni di Ascoli Piceno grazie ad una nuova attacca di ultima generazione. Buonasera, seconda edizione di All News, il Tg delle Marche di TVRS. Siamo dalla sede di Fano. Fano che purtroppo è stata funestata, come sapete, dal duplice omicidio scoperto nella giornata di ieri, ma durante l'interrogatorio, fiume di oltre 16 ore, arrivato fino alle 4, 4 e mezza di questa mattina, parziali rivalazioni del figlio, lo hanno portato fino ad essere indagato e naturalmente per omicidio. Adesso in questo servizio, in questa scheda, ripercuriamo la lunga giornata di oggi. È una giornata in cui molti nel quartiere, soprattutto, si stanno interrogando su quanto è accaduto. un quartiere che già in passato era stato scenario di efferati fatti di sangue, l'ultimo in ordine di tempo, praticamente quasi un anno fa. Insomma, quindi, tanto sgomento, tanta paura all'interno del quartiere. E sentiamo però gli sviluppi dell'indagine. Omicidio volontario aggravato dal vincolo parentale. E' questa l'accusa che viene mossa a Luca Ricci, 49 anni, operaio indagato per aver ammazzato i due anziani genitori, Luisa Marconi e Giuseppe, conosciuto da tutti come Giorgio Ricci, 75 anni lui, 70 la moglie. Ora Luca si trova nel carcere di Villa Fastigi. Il provvedimento del pubblico ministero è stato assunto verso le 4 di questa mattina, dopo un martellante interrogatorio nel commissariato di Fano durato oltre 16 ore e chiusosi con una parziale ammissione da parte dell'uomo, dopo una serie di non so, non ricordo. Ma sono diversi i punti ancora oscuri su cui gli uomini della mobile di Pesaro e del commissariato di Fano, assieme al giudice Maria Letizia Fucci, devono far luce. Al commissariato di Fano ieri pomeriggio è stato un andi rivieni continuo di parenti, amici, conoscenti ed ex del presunto assassino. Sentito anche il figlio diciottenne, che era assieme a lui nel piano superiore della villetta bifamiliare. Villetta al centro delle indagini, la cui vendita all'asta, per onorare i debiti che lui aveva fatto per aprire un'attività in proprio, che però non era andata bene e per la quale i genitori avevano dato in garanzia il loro appartamento. Ieri ci sarebbe dovuto essere l'incontro con il nuovo proprietario, con il quale gli anziani sarebbero rimasti nella loro abitazione, ma come affittuari, incontro al quale però non si è presentato nessuno. I coniugi ricci erano già morti. L'ora del delitto però è un altro aspetto ancora da chiarire, ma che potrà essere definito dall'autopsia e dai rilievi della scientifica. Nell'interrogatorio fiume sembrerebbe che Luca abbia affermato di essere sceso dai genitori in tarda serata perché la madre non si sentiva bene. Poi il buio, forse una discussione per i soldi, forse un raptus di rabbia nel quale ha soffocato la madre e fracassato il cranio del padre con un oggetto pesante. Ipotesi confermata anche dal fatto che i due anziani non sono stati trovati in abiti da notte, ma in vestiti normali. Poi, dopo aver accompagnato il figlio a Pesaro al suo rientro, Luca avrebbe dato l'allarme dicendo di aver trovato i suoi genitori morti nel loro appartamento. Nel pomeriggio di ieri, su iniziativa degli inquirenti, è stato ritrovato un martello in un tombino nel cortile, fatto prosciugare dai vigili del fuoco attorno alle 18.30. Martello ora inquisito dagli inquirenti, ma che al momento non si sa se corrisponde all'arma del delitto. Ora la casa è sotto sequestro. Rimaniamo però in zona, andiamo a Pesaro, dove un parco, un parco cittadino, spesso è stato al centro delle cronache, cronache di spaccio, purtroppo anche di ritrovamenti poco piacevoli. Si chiede a tutta voce, soprattutto alla nuova ministrazione, più sicurezza al parco Mirafiore, questo polmone verde della città. Ci sono interventi che devono essere fatti in maniera mirata, ma ci dovrà essere un gioco di squadra. Camilla Cataldo ha sentito i rappresentanti delle Forze dell'Ordine. Sicurezza nell'area della stazione e del Miralfiore. Purtroppo, nonostante tutte le azioni fatte dalle Forze dell'Ordine, le iniziative culturali e sociali promosse dal Comune, continuano lo spaccio della droga. Parole e musica del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, preoccupato e non è il solo per i fatti del Miralfiore. Proprio qui in questo parco è stato trovato il corpo senza vita di un 44enne. Venerdì scorso era nascosto tra le sterpaglie e a trovarlo è stato un giovane che andava per sentieri. La vittima era un ragazzo che era già noto alle Forze dell'Ordine per problemi di tossicodipendenza. Il problema è sicuramente complesso e non è semplice da risolvere. Gli spacciatori ci sono perché ci sono i consumatori. Chi la droga la usa, ha osservato Biancani, che si incontrerà con il prefetto e tutti gli organismi preposti a garantire la sicurezza pubblica. Il parco Miralfiore è uno dei luoghi che è continuamente all'attenzione del prefetto, del questore, di tutte le forze di polizia e anche della polizia locale. È un luogo che è stato oggetto di molti comitati, Ordine e Sicurezza Pubblica, e che sarà di nuovo oggetto di una riunione il prossimo 28 giugno. Noi abbiamo questo progetto Sofia, che è proprio una mappatura di tutti i sistemi di videosorveglianza. È fondamentale che anche il parco rientri in questo sistema e sia, diciamo, videosorvegliato completamente. Spesso si parla di persone straniere, ma non solo. Vanno reintegrati o puniti questi soggetti? Diciamo, puniti ci penserà la magistratura a capire se li deve punire o no, non sono certo io che... Dopodiché bisogna capire sicuramente cosa c'è dietro questo mondo, ma noi, dal nostro punto di vista, per i compiti nostri istituzionali, cercare di eliminare il fenomeno. Le forze dell'ordine sono abituate a fare tutto quello che devono fare, anche quando hanno delle carenze di organico. Noi da mesi stiamo lavorando tutti insieme, tutte le forze di polizia, quotidianamente facciamo dei servizi più o meno mirati e quindi con numeri maggiori o minori di persone contemporaneamente, al fine di tenere monitorata e fare gli interventi che ci competono all'interno del Parco Miralfiore. Quello dello spaccio è un problema molto complesso che coinvolge non soltanto gli interventi di polizia, di prevenzione e di repressione, ma tutta una serie di ulteriori enti e strutture che tutti insieme poi devono trovare delle strategie. Ci dobbiamo anche porre il problema di come mai ci sia tanta richiesta di sostanze stupefacenti. Polizia locale impegnata ad Ancona negli ultimi tre giorni per sottoporre a verifiche di diverse natura la zona del piano di Ancona, in particolare la piazzetta e il corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno e Toroidi. Sono state effettuate oltre 50 identificazioni che hanno portato anche alla contestazione di alcune infrazioni tra queste elevate due sanzioni per ubrichezza molesta, identificato anche l'autore di un furto perpetrato ai danni della Copp del piano. La persona è stata denunciata a piede libero dall'autorità giudiziaria. I controlli hanno anche riguardato le attività commerciali, risultate tutte in regola e i veicoli in transito, alcuni dei quali sono stati trovati irregolari sotto il profilo della revisione delle mezzo ai proprietari. È stata inflitta una sanzione pecuniaria. Apriamo l'ampia pagina della politica. Partiamo dal generale Vannacci che questo pomeriggio è stato negli studi di Recanati, di TVRS e Manuelita Scocco lo ha praticamente intervistato sul risultato quasi eclatante. Insomma, oltre mezzo milione di preferenze per le elezioni al Parlamento europeo. Insomma, una cifra davvero record, ma sentiamo. Roberto Vannacci, neo-eletto in Parlamento europeo e intanto continua questo suo tour per la presentazione del suo libro, ma anche per condividere quelle tematiche che poi si sono tradotte anche in tanto consenso. Sì, certamente. La campagna, tra virgolette, elettorale continua, perché la mia campagna è stata totalmente atipica. Si è basata sugli inviti che moltissime persone che condividono quello che ho scritto nel libro Il mondo al contrario mi hanno inviato e che non si sono fermati con l'8 e il 9 di giugno, ma continuano. E quindi io torno su questi territori, torno nelle Marche, una bellissima regione, peraltro che è stata protagonista di un risultato elettorale di tutto rispetto, un risultato veramente sbalorditivo per quello che mi concerne. E quindi sono estremamente felice di tornare in queste regioni per dare, intanto per rendere onore a chi ha votato il sottoscritto e per far vedere la mia vicinanza e il mio ringraziamento, ma poi per continuare ad approfondire queste tematiche, questi temi, perché questa è solamente la prima onda che si è formata ed è mia volontà trasformarla in un travolgente tsunami. Temi divisivi che alla fine però hanno unito tante persone, quindi ci voleva forse il coraggio di metterli all'ordine del giorno? Ma i temi veri sono tutti divisivi, perché una tematica, se è sentita, o si è pro o si è contro. E quindi ci sono chi si schiera da una parte, chi si schiera da una parte. Quello intervise non sono scelte serie, perché se accontentano tutti vuol dire che non è una vera scelta, vuol dire che è un qualche cosa di annaquato e diluito. Quindi è vero e giusto che siano divisivi, perché vuol dire che c'è una forte connotazione specifica in quella scelta, in quella tematica, ed è giusto anche che uniscano, perché vuol dire che ci sono numerose persone che aderiscono e che condividono questa scelta. Poi ci saranno quelli che sono contrari e a quel punto si va a giocare sulle minoranze e sulle maggioranze. Una democrazia è un posto dove chi è in maggioranza guida e chi è in minoranza viene rispettato, ma si adegua. Si deve comporre il Parlamento Europeo. Quali sono le priorità che porterà a lei, le istanze che ha raccolto anche dai territori? Le istanze sono quelle che ho sempre cercato di portare avanti anche durante le altre esposizioni, sia del libro, ma anche quelle che ho raccolto poi da quelli che venivano alle presentazioni, da quelli che mi hanno votato e che hanno condiviso quello che io ho detto. Intanto bisogna pensare alla sicurezza, la sicurezza che è direttamente connessa con l'immigrazione. Noi viviamo purtroppo in un'Europa insicura, in un'Europa instabile, che ha due guerre alle proprie porte. Un'Europa dove ci raccontano che moriremo per il disastro climatico, che stiamo ancora, diciamo, questo Armageddon che ancora non è venuto. E invece dobbiamo promuovere un'Europa che sia più ricca e che quindi non si possa permettere il lusso di star dietro al Green Deal e al Rewild Europe che porteranno a una retrocessione economica, che produca di più, perché più ricchezza vuol dire più assistenza sanitaria, più scuola, più ricerca, più università e anche più sicurezza, perché senza risorse non si riesce a far nulla. E quindi mettendo tutto insieme, quindi dicevamo sicurezza, Green Deal, Rewild Europe e rilancio economico. Bene, tematiche che saranno all'oggetto, insomma, di diverse sessioni del Parlamento europeo, vedremo. Allora, il senatore De Poli dell'Udc, il presidente nazionale, ha espresso un giudizio sul voto alle comunali nelle Marche, il ballottaggio praticamente che c'è stato lo scorso fine settimana. Sentite che cosa ha detto. Il centrodestra si conferma forza trainante nelle Marche, ottenendo uno straordinario successo in tutte e tre le città al ballottaggio. Dopo il grande risultato delle europee e del primo turno delle amministrative, anche Osimo e Recanati passano al centrodestra con la vittoria di Francesco Pirani e di Emanuele Pepa, mentre a Urbino viene riconfermato il sindaco uscente, Maurizio Gambini, al suo terzo mandato. Dopo quattro anni di governo regionale e due anni di governo nazionale, nelle Marche continuiamo a crescere e a confermarci maggioranza nelle città e nei piccoli comuni. I miei complimenti ai neo eletti sindaci e un grande in bocca al lupo per le sfide che dovranno affrontare. Chiudiamo questa lunga pagina elettorale con il sindaco di Recanati, nuovo eletto, che oggi ha indossato per la prima volta la fascia di sindaco Manolita Scocco. Alle 12.30 di questa mattina la proclamazione del sindaco eletto Emanuele Pepa, che all'aula magna del comune di Recanati ha indossato la fascia di primo cittadino, aprendo ufficialmente la legislatura, all'indomani della vittoria al ballottaggio con il sindaco uscente Antonio Bravi. Tra gli applausi e la soddisfazione di sostenitori e neo eletti consiglieri, per Emanuele Pepa è già tempo di parlare di futuro. Sarà sicuramente un futuro con la gente e per la gente. Vorremmo essere con loro, costruire il nostro futuro Recanatesi, i nostri programmi e soprattutto i nostri sogni, che tanto ci è cari e ci pare sempre insommortabili. Invece dobbiamo capire che quando c'è un sogno c'è un obiettivo, c'è un'aspettativa e c'è una convinzione di poter portare il risultato e lavorarci fino in fondo. Con tutti i nostri amici della coalizione, ma soprattutto con il personale, con i dipendenti comunali, perché tanto hanno dato fino ad oggi, tanto chiederò altro e tanto anch'io, quando da domani, perché comunque oggi ancora abbiamo fatto le presentazioni, ma domani saranno subito al lavoro insieme. Bollette più leggere, energia elettrica, naturalmente sappiamo che dal primo di luglio ci sarà il passaggio definitivo al mercato libero. Che cosa si deve sapere e a cosa fare? Attenzione. Sentiamo il servizio di Camilla Catato. La bolletta della luce è la svolta che si avvicina. Dal primo luglio scatterà la fine del mercato tutelato. Nessuno stoppa l'elettricità, forniture garantite e risparmi calcolati fino a 130 euro l'anno. Il passaggio avverrà in maniera automatica al servizio delle tutele graduali, il sistema che andrà a scadenza nel 2027 e che accompagnerà il passaggio al sistema di pura concorrenza. Non cambia nulla per i vulnerabili. Il consiglio nostro è di appunto rientrare per questi soggetti vulnerabili nel sistema di tutela perché per loro è decisamente più conveniente. I clienti domestici dell'elettricità non vulnerabili sono quelli che ricevono fino ad oggi, hanno ricevuto la bolletta del servizio elettrico nazionale. Per questi clienti dal primo luglio di quest'anno c'è il passaggio nel mercato libero. Però questo passaggio avviene in maniera, come dire, con un periodo di transizione, avviene in maniera graduale. Se il cliente non vulnerabile rimane inerte, non fa nessuna scelta, dal primo luglio 2024 entra nel sistema di tutele graduali. Ultima notazione, cosa succede al cliente domestico non vulnerabile che invece ha fatto un contratto sul libero mercato. Entro il 30 giugno questo cliente non vulnerabile può recedere dal contratto che ha fatto sul libero mercato per aderire a servizi a tutele graduali. Il consiglio è quello di entrare nel servizio a tutele graduali perché oggi è decisamente più favorevole grazie al risultato delle aste che c'è stato. La completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica è più complessa rispetto a quella del gas. C'è il rischio di truffe attraverso il telemarketing e il porta a porta. Vogliamo mettere un attimo allerta le persone rispetto a una pubblicità aggressiva che abbiamo registrato in quest'ultimo periodo, soprattutto da parte di piccole società, talvolta anche sconosciute, che contattano le persone via telefono con comportamenti non sempre corretti anche dal punto di vista delle informazioni. Come feder consumatori vogliamo anche rilevare che la RERA, che è l'autorità di regolazione dell'energia, il nostro apparato pubblico è arrivata in ritardo con la campagna informativa. Parliamo di sanità, sanità pubblica, una nuova TAC di ultima generazione all'ospedale di Ascoli Piceno permette all'ospedale e al reparto di radio di diagnostica di essere all'avanguardia. Manuela Cermignani, scusate. Una nuova TAC per l'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, altamente tecnologica e in funzione nel reparto di radio di diagnostica. L'azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha potenziato ulteriormente la dotazione tecnologica dell'ospedale Mazzoni con l'acquisizione di una nuova TAC di ultima generazione, acquistata con i fondi del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, PNRR, per un importo di 520 mila euro, ma con costi di installazione a carico del bilancio aziendale. La nuova TAC da ieri, lunedì 24 giugno, è in funzione e dunque a servizio dell'utenza. La TAC noi l'avevamo già, questa è la sostituzione di un apparecchio vecchio con un apparecchio tecnologicamente molto avanzato. Ormai tutte queste grandi tecnologie sono dotate di intelligenza artificiale e permettono di fare delle immagini estremamente dettagliate per migliorare la qualità diagnostica. Questa è la seconda TAC che montiamo all'interno dell'AST, la prima abbiamo già installata a San Benedetto ed è quella con il finanziamento PNRR. Quindi noi stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi previsti per il PNRR e stiamo lavorando adesso anche per poi riuscire ad installare ovviamente la risonanza magnetica entro la fine dell'anno. In supporto anche all'incremento delle attività di radiodiagnostica dell'ospedale. Noi abbiamo lavorato oltre che sulla tecnologia anche sulla riorganizzazione dei turni di lavoro e siamo riusciti ad aumentare il numero di prestazioni fatte. Già da aprile di quest'anno con questa modifica organizzativa abbiamo aumentato di quasi 260 prestazioni radiologiche la settimana. Questa è un'apparecchiatura performante di ultima generazione che ha alcune caratteristiche che la rendono particolare perché ha un gentri, cioè una ampiezza molto estesa che consente quindi di effettuare anche procedure di tipo operativo. Ad esempio in radiologia interventistica noi utilizziamo la TAC come guida per effettuare alcune prestazioni quindi la comodità del gentri sia per il paziente che per l'operatore agevola l'effettuazione di queste procedure. Parlo in particolare di posizionamento di cateteri nel corpo in sedi profonde, l'effettuazione di biopsie in sedi complesse oppure addirittura il trattamento di particolari lesioni neoplastiche parlo a livello di fegato, di rene, di osso in guida TAC. Avere un'apparecchiatura di questa diciamo qualità ci consente di lavorare in condizioni di sicurezza maggiore sia per l'operatore che per il paziente soprattutto riducendo i rischi e avendo una qualità dell'immagine molto più dettagliata. Bene, che il turismo gastronomico, l'enogastronomia sia nel mirino della regione Marche per attirare turisti soprattutto quelli amanti di questo genere di turismo lo sappiamo da tempo e quindi turismo agricolo ed enogastronomico andiamo a Campofilone per fondi messi a disposizione della regione Marche. Ce ne parla Mario Larocca. Il progetto Vivi Marche è un'iniziativa della regione Marche che mira a sostenere lo sviluppo e la promozione del territorio attraverso il turismo, l'enogastronomia e la valorizzazione delle risorse locali. La realtà di Mondomini offre al cittadino la possibilità di vedere realizzati nella sostanza uno di quei tanti bandi messi a disposizione dalla regione Marche. Più finanziamenti che hanno concorso a realizzare questa magnifica attività di fatto che è composta da un ecomuseo, una bottega di vendita, una casa colonica, più di 8.000 piante di olivo, alcune delle quali storiche. Credo che quando c'è la capacità di sapere utilizzare bene i fondi poi i risultati arrivano. Non è finito perché mi auguro che partecipino, ma sono certo, anche alla prossima legge che abbiamo emanato recentemente con il bando annesso entro il 15 di agosto sull'olio turismo. Sicuramente potranno avere l'occasione di incrementare tutta una serie di attività che si offrono al turista rispetto appunto alla conoscenza dei luoghi di produzione dell'olio. La vista sul mare Adriatico, gli olivi secolari e la degustazione dell'olio extravergine sono stati la giusta cornice per la soddisfazione di tutti. Noi qui oggi stiamo celebrando in qualche modo tre linee di finanziamento, tutte agite dalla Regione Marche su fondi europei, fondi di tutti noi che sono a disposizione e che abbiamo avuto la possibilità di ricevere attraverso tre bandi, due del PNRR, uno della cultura e uno del turismo e uno si chiama PSR, quello per l'agricoltura, gestito dalla Regione, sempre agricoltura. Quindi sono veramente determinanti. Non avremmo fatto i lavori che vedete, questa casa tutta nuova è dovuta a questo, non avremmo fatto la struttura e il centro di interpretazione territoriale dell'Ecomuseo della Valde dell'Aso senza questi finanziamenti. Bene, prima di lasciarvi vi posso dire che la Polizia scientifica ha fatto un ulteriore sopralluogo questo pomeriggio, poche ore fa, nella villetta di Fano in via Fanella alla ricerca di ulteriori riscontri in base anche un po' alle dichiarazioni che ha rilasciato Luca il figlio durante il suo interrogatorio nella notte scorsa e quindi cercano riscontri, cercano abiti, forse alcuni oggetti indicati dallo stesso indagato per avere testimonianza di quello che è stato dato. Quindi sicuramente ancora Rissi e ancora naturalmente i poliziotti della scientifica che sono all'opera per andare a fondo e capire benissimo, è meglio che si può, le dinamiche di questo efferato omicidio. Bene, adesso il sommario di questa edizione serale. Duplice delitto a Fano, indagato il figlio di 49 anni per omicidio volontario aggravato, ora si trova in cancere a Villa Fastigi, a Pesero. Più sicurezza al Parco Miralfiore, tra spaccio, morte e paura servono nuovi interventi mirati, si farà gioco di squadra. Il generale Vannaccia ai nostri microfoni parla della vittoria alle elezioni per il Parlamento europeo. Il reparto di radiologia diagnostica all'avanguardia al Malzoni, di Ascoli, Piceno, grazie ad una nuova TAC di ultima generazione. E questo è tutto, grazie per essere stati con noi, l'informazione torna domani con le due edizioni di All News. Arrivederci. Asset, acqua, non sprecarla. Ben trovati da Nikos Chiodetto. Previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo ancora una situazione bloccata sull'Italia con un minimo di bassa pressione e foriero di qualche rovescio temporale. Bloccata perché ritroviamo l'alta pressione più a nord e quindi il flusso atlantico ancora non muove questo minimo di bassa pressione verso est, ma lo farà da giovedì con un sensibile miglioramento. Nel dettaglio ecco la nuvolosità, grande variabilità sull'Italia centrosettentrionale, mentre tempo più soleggiato è atteso al sud, sulle isole maggiori. Ce lo conferma questa mappa con ancora rischio di qualche fenomeno in giornata entro il pomeriggio sull'Italia centrosettentrionale, specie ridosso le montagne e anche sul medio adriatico e aree interne della Toscana. La mappa dell'Italia ci conferma l'instabilità come dicevamo su parte del centro nord, mentre tempo più soleggiato al sud e sulle isole maggiori, le temperature comunque oscilleranno mediamente tra i 25 e i 30 gradi. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Travi Meteo.